Guarda, uno su quel cinesino blu là, uno con la palla e uno senza raga, uno su quel cinesino là, uno con la palla e uno senza, poi qua raga veloci, con la palla con il cinesino qua, va lì dietro, vai dietro lui, vai dietro a Melvin, Marcio vai dietro a Stup, qua ci mettiamo uno lì, uno là e uno là. Allora, guidiamo palle, dove volete trasmettete palle e venite dietro, occhio che c'è l'interferenza un po' di tutti qua, che li avete incrociati, loro vengono e a un certo punto dovete passarla senza scontrarvi con gli altri, ok? Andiamo via. No, no, quello di fronte, sempre quello di fronte, andiamo. Martì, quello di fronte, e avete uno di fronte a l'altro di fronte. Via, 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 stop, 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 uno di fronte, allora, voi giocate, voi giocate, voi giocate. No, ma non è un po' di fronte a l'altro di fronte, ma non è un po'. No, ma non è un po' di fronte a l'altro di fronte, eh. la palla parte sempre dove siete in due 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 Grazie.